Matteo Salvini, Vicepremiere Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, presente all'Aquila presso il ristorante Villa Giulia. È stata presentata la lista dei candidati della Lega per le prossime elezioni regionali. Si era fermato a Piazza d'Armi con una delegazione di agricoltori che stanno manifestando in questi giorni all'Aquila. Per ringraziare allevatori, agricoltori, trattori che in queste settimane in tutta Europa stanno costringendo Bruxelles a tornare sulla terra. Quindi non possiamo chiudere le stalle perché le vacche sono più inquinanti delle grandi fabbriche. Non possiamo pagare i contadini per non fare il loro lavoro e non coltivare i loro campi. Per me la parola data è oro e quindi ci sono 700 milioni per i primi lavori sulla ferrovia. E ho fatto l'A24 venendo qua da Roma. Abbiamo riportato un po' di ordine, una situazione che qualcun altro in passato aveva ingarbugliato. Settimana prossima farò un altro incontro con i sindaci abruzzesi razziali al Ministero. Stiamo lavorando anche con i Toto. C'è l'impegno a non aumentare le tariffe, anzi il mio obiettivo sarebbe anche di ridurle. Quindi diciamo che sono contento. Io sono contento del lavoro che hanno fatto le donne e gli uomini della Lega in questi cinque anni perché c'era un Abruzzo che era in coda alle classifiche qualche anno fa. Penso al tema agricoltura, visto che è ad assoluta attualità. Grazie alla buona gestione di questi anni l'Abruzzo è tornato a correre, a competere, a crescere. E quindi conto che nei prossimi cinque anni la Lega sia ancora determinante. La sicurezza è in tutta Italia. Diciamo che io ancora settimana prossima sarò in un'aula di tribunale a processo per aver bloccato gli sbarchi clandestini, l'ho fatto perché era un mio dovere, lo rifarei e lo rifarò. Abbiamo un piano di assunzioni di poliziotti, carabinieri, donne e uomini in divisa e di ritorno dell'esercito nelle strade che sicuramente un po' di sicurezza in più la porterà. Poi certo, occorre una riforma alla giustizia perché i poliziotti fanno il loro lavoro. Ogni tanto qualche giudice vanifica il lavoro di poliziotti e carabinieri. Una roba alla volta, abbiamo altri quattro anni davanti. E cinque anni per governare l'Abruzzo perché penso che gli abruzzesi sono persone assolutamente concrete. Qua centrodestra vincerà largamente e la Lega sarà protagonista anche nei prossimi cinque anni. La regione Abruzzo verso il futuro, per le nostre imprese.